Dal mandato di cottura di Como al diazio dei sapori di bollate per approdare Varese con Assaporiamo la libertà fino alle mani in pasta di opera. Sono i quattro laboratori che condividono un unico e solo progetto, cucinare al fresco, ovvero una raccolta di ricette realizzate rigorosamente dietro alle sbarre. Una sperimentazione avviata due anni fa all'interno del carcere del Bassone di Como e che nelle ultime settimane ha coinvolto tutti gli istituti penitenziari italiani. L'iniziativa è stata presentata a Palazzo Pirelli, alla presenza dell'ideatrice del progetto Arianna Augustoni, del Presidente del Consiglio Alessandro Fermi, del Garante dei detenuti Carlo Lio, del Proveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria Pietro Buffa e del Direttore del Carcere del Bassone di Como Fabrizio Rinaldi. Molti detenuti che hanno iniziato a preparare ricette ma soprattutto a cucinare, ovviamente non hanno a disposizione né MasterChef né la cucina di Cracco, ma hanno dei piccoli fornelletti da campo nelle loro celle. Però anche con questi stanno creando dei piccoli gioielli di sapori che sono rappresentati in questo magazine. Dagli ingredienti del carrello a quelli della spesa, passando da quanto entra in carcere dall'esterno, i ricettari e il magazine sono un percorso di vita e di speranza. Scorrendo le pagine si trovano suggerimenti interessanti, idee veloci e sfiziose da servire in tavola per ogni occasione. I piatti vengono rivisitati anche nelle diverse culture internazionali. Non mancano ricette che appartengono alla cucina del Niger o delle Filippine, mentre il couscous marocchino si confronta con quello tunisino. Il garante dei detenuti Carlo Lio, sottolineando l'importanza dei progetti di formazione in carcere, ha garantito pieno appoggio e sostegno all'iniziativa.